è un po' più lontano però magari che figa sai anche la corsa come dio vai che ti faccio un assistone io che assistone? no volevo fargli ma ci siete o? io non ho la punizione di seconda di seconda adesso lui la dà a me e la dà buona io e te adesso entriamo di seconda e via dove tiri tu? non ho capito tu vai non c'è un senso poi arrivi da lì no no che sta buttando tutta la terra sulla roba no c'è andrà basta l'arada ma non fa qualcosa oh fermati ma c'è il cellulare Luca Luca ma dio cane ma ascolta un attimo ma c'è la roba che non doveva essersi sporcata è questa e il resto delle cose ma ho capito ma non è su terra mica dai e poi c'ho due mani e basta no 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 si può? la candra è con me e guai veramente no 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 il collo no ti arretti il collo anche la Candra Candra vieni qua a scorreggiai addosso io mi sa che il mio sterno ha preso la forma di tuo polmone devi ha fatto anche il motore, buona